buongiorno siamo con l'ingegnere antonio ancona che ha appena discusso la sua tesi nell'ambito del master project in contra management in construction works tesi dal titolo proietto mina cucicamata subterranea in cile analisi su un caso reale di progetto 2012 2017 nelle metodologie di project management applicate delle condizioni contrattuali in comparazione con fidiche emerald book prima edizione del 2019 e siamo con ancora con con antonio perché ci racconti qualcosa su questa sua esperienza di sì buongiorno la mia esperienza di master è stata abbastanza molto gratificante il l'ho realizzata a conclusione di un ciclo lavorativo che è mi ha consentito adesso di acquisire una formazione formale per tutti quelli che erano le attività svolte in sia su questo progetto oggetto del lavoro di tesi sia su altri cantieri o attività lavorative svolte all'estero con imprese di costruzione italiane tanto il contrat management quanto il project management sono stati particolarmente impegnativi durante la mia attività lavorativa e adesso ho avuto l'occasione di completare la conoscenza attraverso questo percorso formale interessante poter studiare dopo aver visto le cose direttamente sul campo ma per l'impostazione del del master lo consiglierei anche in forma inversa cioè come attività formativa prima di iniziare quel tipo di lavoro anche perché sono contenuti e informazioni corsi che difficilmente si incontrano durante i corsi di studio in ingegneria e architettura certo grazie grazie Antonio quindi sì fondamentalmente l'obiettivo è quello di fornire strumenti professionali che poi possono essere utili in ambito lavorativo tu chiaramente avevi già affrontato questi argomenti li avevi già toccati con mano nella tua attività professionale però come dici può comunque servire per dare una formalizzazione a quello che magari diciamo avevi visto direttamente sul campo e ovviamente hai affrontato questo questo percorso come lavoratore come ti sei trovato diciamo le lezioni le hai seguito in modalità sincrona in modalità sincrona come ti sei organizzato ho seguito le lezioni in modalità asincrona perché chiaramente molte delle lezioni durante l'attività si sovrapponevano all'attività lavorativa e questo è stato certamente un grande vantaggio perché ha consentito di poterle non poter non perdere mai tenuti di corsi molto importanti come appunto quello per esempio da cui ho appreso la novità dell'emerald book prima edizione 2019 per i lavori in sotterranea che è una pubblicazione fidic sulla quale non mi ero mai cimentato durante l'attività lavorativa e per questo motivo è stato poi scelto da me come contenuto della del mio progetto di tesi bene e allora ci vuoi mostrare qualche diapositiva quelle che ritieni essere le più le più significative di questo lavoro di tesi sì posso mostrare delle diapositive iniziali per quella che è la panoramica generale del progetto il progetto della miniera di rame sotterranea di ciui camata in cile eh un progetto un progetto particolarmente avanguardistico il cliente codelco ha un piano di investimenti eh di eh vari miliardi di dollari per lo sviluppo di questa miniera eh che come si vede in queste immagini ha eh quattro livelli di approfondimento da realizzare nell'arco dei prossimi eh cinquant'anni e ha richiesto venticinque anni per lo sviluppo eh del progetto eh per portare eh dall'in dalla progettazione alla la produzione a regime della miniera che arriverà nell'arco dei prossimi mesi perché attualmente è in fase di ramp up ehm come si può vedere in questa immagine ehm la la miniera a cielo aperto o la cava di estrazione di rame attualmente in dismissione aveva raggiunto delle dimensioni talmente grandi da essere eh svantaggioso da un punto di vista economico proseguire con quel tipo di estrazione pertanto si è passato ad un eh progetto eh di miniera sotterranea eh su cui ho lavorato sul primo contratto di realizzazione della dell'infrastrutture permanenti per la realizzazione di questa miniera sotterranea punto di vista dei contenuti invece del contract management come dicevo prima eh mi è interessato molto confrontare i documenti contrattuali forniti in fase di gara nell'ormai lontano duemila undici da parte eh della stazione appaltante Codelco con quelle che sono le previsioni contrattuali della prima edizione duemila diciannove dell'emerald book di FIDIC andando a confrontare quelle che sono le condizioni specifiche per i lavori in sotterranea verificando i punti eh di incontro i punti di distacco tra i i due documenti dal punto di vista invece del del project management eh particolare attenzione è stata fornita eh su quella che è la parte di gestione generale della commessa sia per il quantitativo di personale coinvolto per le attività produttive legate poi alle opere di scavo eh molto importante gli aspetti della sicurezza su cui Codelco è particolarmente attenta eh eh devo dire che ha rappresentato veramente un punto di un un grande tema di di apprendimento per quanto mi riguarda eh ma soprattutto su quelle che sono state le attività di programmazione e controllo in particolare sul controllo dell'avanzamento fisico ma anche su quello che è stato il controllo dell'avanzamento economico eh controlli di efficienza ed efficacia secondo quello che è il value management che è considerato a tutti gli effetti livello più avanzato di possibilità di controllo di progetti. Benissimo eh grazie Antonio ehm so che adesso diciamo la la tua attività è un po' diversa sei impegnata nella pubblica amministrazione eh spero comunque che eh diciamo eh gli argomenti le 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 nozioni gli strumenti che questo master ha cercato di mettervi a disposizione possano essere possano continuare a esserti utili anche in questa tua nuova attività lavorativa. Certamente inevitabilmente sì eh il project management deve essere il presente del futuro dell'attività lavorativa tanto nel privato quanto nella pubblica amministrazione. Grazie Antonio a presto. Grazie a presto.